Ho avuto quella festa appunto in metà ogni tanto, ma pensano che fa? Ogni volta che marco il sito è sembraziante come quella volta che stava al ristorante e poi sofferti da bere, le dice va bene, solo che quando le fa sul bicchiere. E' una malattia pericolosa, statemi lontani e contagiosa. Non so se sono un pazzo, sono un genio, fatti i selfie, morsi a raggo e quel pelo. Non mi fumo cane, sono anche a stemio, io non faccio brutto ma... Contattori in tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, in ciabatta e nel locale, andiamo a comandare, spaccio acqua minerale, andiamo a comandare! Ho un problema nella testa che funziona a metà ogni tanto, parto un tune che fa. Ho un problema nella testa che va a prendere la musica dentro del tuo club. Non so se sono pazzo, sono un genio, fatti i selfie, morsi a raggo e quel pelo. Non mi fumo cane, sono anche a stemio, io non faccio brutto ma... Contattori in tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto con il mio cane, andiamo a comandare, in ciabatta e nel locale, andiamo a comandare, spaccio acqua minerale, andiamo a comandare. Grazie.